fondina Wehrmacht per P08 fondina realizzata interamente in cuoio in cuoio molto spesso come quello dell'epoca cuciture perfettamente replicate come quelle del periodo bellico dettagli riprodotti nei minimi aspetti chiusura a cinghietta e sul retro passanti per cinturone loghi stampigliati notate le cuciture perfettamente riprodotte la P08 veniva infilata in questa maniera e era perfetta come fondina poi veniva chiusa qua notate che questa chiusura poi verrà cambiata in quanto troppo difficile da dire troppo lavoriosa questa cinghietta invece serve per far tenere la pistola per non farla cadere proprio in fondo quanto tirandola viene si alza questo laterale è il portacaricatore dove può trovare alloggiamento il caricatore della vostra P08 lo sporco interno e queste queste macchie queste sbavature sono dovute alla lavorazione semi artigianale come quella dell'epoca propone venti sprapp sprapp Grazie.